Durante la conferenza stampa sull'emergenza idrica a Caltanissette e San Cataldo, i sindaci Walter Tesaure e Gioacchino Comparato, insieme ai rappresentanti di Caltacqua, Protezione Civile e Aspa, hanno discusso le azioni intraprese per far fronte alla siccità che ha colpito la regione. Sono stati ispezionati oltre 60 pozzi, ma solo tre sono risultati idonei per la distribuzione dell'acqua, fornendo un totale di 32 litri al secondo. Ulteriori pozzi e misure, come l'uso di autobotti, sono stati attivati per mitigare l'emergenza. Le nuove risorse idriche dovrebbero essere operative entro agosto, con ulteriori interventi previsti per settembre.